Ci stiamo avvicinando al Tax Barn di Terra Luna Classic, il Tax Barn che promette di bruciare l'1,2% di ogni singola transazione all'interno dell'ecosistema di Terra Luna Classic e di USDC, quindi andremo a bruciare su ogni singola transazione l'1,2% di USDC e l'1,2% di Lung, si sta avvicinando. Si sta avvicinando e come ci dice anche Binance avverrà il 21 settembre 2022 alle 22 UTC, l'altezza del blocco sarà il blocco numero 9.475.200, vi ricordo che Binance però darà la possibilità di bruciare solamente i depositi e i prelievi, quindi se noi spostiamo di Terra Luna all'interno di Binance verrà bruciato l'1,2%, se noi da Binance preleiamo verso altri wallet andremo a bruciare l'1,2%, mentre per quanto riguarda il trading, quindi questa sezione qui trading, spot o margine, se noi andremo a trattare i Terra Luna Classic o gli USDC non verranno bruciati gli 1,2% di token, vi ricordo che Binance ha quasi il 40% di token di Terra Luna Classic e quindi se non partecipa Binance a questo barn abbiamo un problemino. Detto questo, la cosa importante da non sottovalutare è che anche USDC verrà barnato e questo può portare ad aumentare di valore il token stesso, che si trova in questo momento a un prezzo di 0,03298781 e questo potrà fargli riprendere un po' quello che è il PEG, perché ricordiamo che essendo una stablecoin algoritma dovrebbe valere un dollaro, naturalmente questo lo aiuterà magari ad aumentare di valore. Terra Luna Classic invece ce la ritroviamo adesso a un prezzo di 0,3029171, vi ricordiamo che nei giorni scorsi eravamo arrivati a 0,3055 invece di 2, quindi comunque ha avuto un dump nelle ultime settimane, ma noi vediamo Terra Luna Classic comunque un prezzo che può arrivare anche a 0,50 centesimi e se veramente faranno questo barn come si deve potrà arrivare secondo noi ad un dollaro. Detto questo, vi ricordo che l'obiettivo di Terra Luna Classic in questo caso specifico è portare la total supply dai 6 bilioni attuali a 10 miliardi, quindi comunque andare a ridurre totalmente questa offerta in circolazione eliminando il 6, eliminando il 9 e portando questo 0,3 praticamente a 10, quindi dovremmo avere 10 miliardi, 208 milioni e 125 mila in questo caso specifico, ma in realtà nemmeno perché arriveremo a 10 miliardi esatti, ok? In questa maniera diminuendo il totale dei token va a aumentare il valore intrinseco del singolo token, ok? Vi ricordo che per esempio all'interno di Terra Station voi potete praticamente depositare i vostri token, quindi i vostri LUNC o USDC e partecipare attivamente all'ecosistema di Terra Luna Classic. Se noi andiamo all'interno dei Atom Scan che ci permette di capire a quale blocco ci ritroviamo, io adesso aggiorno un attimino la pagina, vi faccio vedere che attualmente ci troviamo all'altezza del blocco 9.463.699, mentre l'obiettivo vi ricordo è arrivare a 9.475.000, quindi diciamo che manca veramente poco e magari non sarà, questo non avverrà il 21 settembre ma addirittura potrebbe anche avvenire prima, quindi attendiamo, vi aggiorneremo da questo punto di vista, tra l'altro vi straconsigliamo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdervi tanti contenuti come questo dedicati anche al mondo di Terra Luna. Inoltre vi ricordiamo che abbiamo un sito web dedicato al mondo degli NFT dove parliamo di NFT a 360 gradi, andate a visionare il nostro sito web. Detto questo, una cosa molto 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 importante è che all'interno innanzitutto di questa pagina di classic, quindi il link è classic-gora.terra.money e poi troverete la proposta 46319, qui ci sono tutti i parametri che vanno a spiegare come verrà implementato questo 1,2% per barnare ogni singola transazione e qui ci diceva naturalmente che doveva avvenire il 20 settembre. Siamo al 20 settembre, sono le ore 12 in questo momento, mentre sto registrando il video, e questo blocco ancora non è stato raggiunto. Quindi comunque l'epoca 94, blocco 9.475.200, probabilmente verrà raggiunto domani o comunque entro la fine di questa giornata. Vediamo. Detto questo però vi voglio dare una notizia molto importante perché se è vero che Binance non supporterà questo tax barn, allora una cosa che ho anche visto in altri video e mi trovo d'accordo, è che se realmente credete nell'ecosistema di Binance, perdonatemi, se credete nell'ecosistema di Terra Luna Classic, la cosa che si dovrebbe fare per giusto è quando verrà implementata questa tax barn, quindi solo quando viene implementata la tax barn, prendete i vostri bait token che sono all'interno di Binance, quindi i vostri LUNC, i vostri STC, e li prelevate in direzione per esempio o di KuCoin o di Terra Station. Perché? Perché in questa maniera andrete a barnare l'1,2% dei vostri token, in quanto il prelievo comunque permette di barnare. Quindi in primis partecipate attivamente a questo barn, andando anche a togliere dei token che voi avete, ma va bene perché considerate che questo è per il bene comune, i vostri stessi token che vi rimarranno, varranno molto di più nel corso del tempo se questo barn avverrà, ok? Nello stesso tempo però non andrete a supportare un ecosistema per quanto riguarda Terra Luna Classic, attenzione per il resto Binance grandissime change, che comunque non sta implementando questo tax barn in maniera interna, quindi non c'è la possibilità di tradare con spot e margine all'interno di Binance, bruciando Terra Luna Classic, che aiutava tantissimo questo barn, ok? Quindi per come la vediamo noi, se realmente volete supportare questo ecosistema, dovete uscire da Binance con Terra Luna Classic e USTC, ma fatelo solo dopo che viene implementata questa tax barn, perché è una chiara risposta che tutta la community di Terra, quindi i Lunatics, possono andare a dare a Binance e gli exchange che ancora non hanno approvato questa tax barn. Però ripeto, cosa straordinaria è che KuCoin invece supporterà l'1,2% della tax barn e ci sono anche altri exchange centralizzati e non che supporteranno questa tax barn. A mano a mano ne stanno uscendo sempre di nuovi, quindi magari a mano a mano ne troveremo di altri molto positivi su cui andare a depositare i nostri Luna e su cui fare poi le varie operazioni. Quindi straconsigliamo di iscrivervi a KuCoin, vi ricordo che in descrizione troverete i link referral dai vari exchange, dove grazie ai nostri link referral otterrete anche bonus di benvenuto. Quindi registratevi dal nostro link in basso. Quindi detto questo, comunque KuCoin supporterà questo 1,2% della tax barn. Detto questo, quindi dobbiamo solamente attendere. Quello che noi vediamo è che nel momento in cui, e quindi quello che noi prevediamo, nonostante non siamo dei maghi, non abbiamo la sfera di cristallo, però quello che noi prevediamo è che nei momenti in cui questo barn avverrà, quindi questa implementazione della tax barn avverrà, avverrà bene nel senso che funziona realmente, non ci sono problemi all'interno della blockchain di Terra Luna Classic. Nei prossimi giorni vedremo un pump importante di Terra Luna Classic. Noi prevediamo questo. Secondo voi invece, che cosa succederà? Verrà realmente implementato, visto che ormai ci troviamo alla fine, quindi esponetevi. A che prezzo vedete Terra Luna Classic? Nel breve, nel medio e nel lungo periodo? Secondo voi un progetto che esploderà nuovamente? O è già fallito per voi uno scambio e non entrare da nessuna parte? Fatecelo sapere nei commenti sotto al video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Qui da CryptoNFT Italia è tutto. Ciao e a presto.